Anche Don Filippo Cotroneo e la parrocchia di Maria Santissima di Portosalvo hanno risposto all'appello lanciato dalla triade commissariale. Nel pomeriggio di ieri, con l'ausilio di alcuni volontari, hanno ripulito e sistemato a Marturano lo spazio verde in prossimità di Piazza Mia Martini. A dire il vero Don Filippo, già da qualche anno si occupa di manutenere quell'area, in particolare il luogo dove qualche anno fa ha provveduto a posizionare una statua dell'Immacolata. Abbiamo già protocollato, ha detto ieri il parroco di Marinella, la richiesta al Comune per adottare questo sito in modo da renderlo bello ed accogliente. Riteniamo fondamentale come parrocchio in questo momento non stare a guardare, ma in uno spirito di servizio che ci deve vedere coinvolti all'interno di percorsi di crescita della città, vogliamo anche noi contribuire a migliorare e rendere fruibili posti meravigliosi come questo. Forbici, rastrello, tagliaerbe, tanta buona volontà, questi gli ingredienti principali con i giovani di volontari della parrocchia pronti a sostenere e portare avanti un'iniziativa che si spera in futuro possa coinvolgere tanta più gente.